Parte oggi Daunia Poesia, tre giorni di appuntamenti nel weekend, già c'era stata un'anteprima la settimana scorsa, quali saranno gli appuntamenti, chi porterete a San Severo? Daunia Poesia quest'anno è arrivata la quinta edizione, è un percorso che stiamo portando avanti con fatica e con grandi risultati comunque. Abbiamo portato poeti importantissimi finora e l'anteprima della settimana scorsa del libro di Claudia Ruggeri nella testimonianza. Il percorso di queste tre giorni invece si suddivide tra immagini, suoni e parole. Inizieremo oggi alle 17.30 al foyer del teatro con la mostra fotografica di Raffaele Battista, un fotografo di fama internazionale che ci porta a un percorso che si chiama Daunia Poesia di un paesaggio. Alle 17.30 al foyer del teatro. Domani, stesso posto, quindi al foyer del teatro sempre 17.30, avremo il secondo appuntamento con Giovanni Rinaldi che ci porta una chicca, un libro che si chiama A Sud e gli autori di questo libro in realtà sono Cucciolla e Matteo Salvatore, due grandi protagonisti della scena cinematografica e teatrale Cucciolla e musicale Matteo Salvatore che in qualche modo raccontano il sud attraverso le pagine di Rocco Scotellaro, Ernesto De Martino e Tommaso Fiore. E si concluderà con un documentario sempre a firma di Giovanni Rinaldi. Domenica, invece, domenica 20, sempre foyer del teatro, sempre 17.30, ci sarà un reading dal titolo Paesaggi che ospiterà sei poeti, Enrico Fracca Creta che conoscete tutti perché è sanseverese, poi c'è Paolo Polvani che viene da Barletta, Antonio Lillo e Francesco Santoro che vengono invece dalla terra delle murge, Salvatore Ritrovato, professore universitario a Urbino e Rossella Tempesta che nell'ultima edizione Nuovi Poeti 6 di Enaudi è stata antologizzata. Sarà l'occasione per vedere quasi a 360 gradi i paesaggi umani e non solo della poesia italiana.